Giovedì 5 aprile 2018 Non preservare nulla per le occasioni speciali Essere vivo è un'occasione speciale Oggi ci sei, domani non lo so Chi è? Sì però in realtà è vero Io sto vivendo adesso Se c'ho voglia di una fetta di tiramisù Non so ad aspettare il compleanno dell'anno prossimo Mi faccio un tiramisù e me lo mangio Ok per voi che siete a dieta Ma avete già mandato a quel paese Però è vero guardate Non è una splendida giornata da festeggiare questa E ringrazio per aver la possibilità di vivermela Uscite, prendete una boccata d'aria Godete di questa meravigliosa vita che vi è stata donata anche oggi Oggi, sì, adesso Trovate quella forza dentro voi per ringraziare di questa possibilità che vi è stata donata E se siete a letto con l'influenza o se avete qualche altra impossibilità di muovervi Trovate qualcosa, un modo per far sì che questa giornata non sia vana Leggete un libro, scrivete i vostri pensieri Telefonate a qualcuno che è da tanto che non sentite Emanate, diffondete la vostra energia Oppure fate un lavoro su voi stessi Ascoltatevi, cercate di capirvi Che anche quello è un esercizio non da poco Ascoltate della buona musica Rilassatevi Siate grati per questo presente Perché è meravigliosa questa vita È un'esperienza in un corpo umano Che state facendo Imparate il più possibile da questo vostro viaggio A qualcosa serve, a qualcosa servirà E se volete questa sera a cena brindate Brindate alla salute E mangiatevi una fetta di tiramisù Ogni giorno è una fantastica sorpresa Solo belle vibrazioni Besitos Live your life, Rihanna and Ti E siccome anch'io come voi C'ho tante cose da fare Devo vivere la mia vita Noi ci rivediamo lunedì prossimo Ciao